Salve a tutti, buonasera e rieccoci di nuovo su Cannotv. Quest'oggi torniamo a parlare di Nathan Never perché ho da presentarvi uno dei primi storici albi della testata. Voi sapete che io mi sono messo in testa di parlare di tutti gli albi di Nathan Never, perlomeno della serie regolare in ordine cronologico, cercando un po' di fare il possibile perché non li ho ancora recuperati tutti, ma a proposito di recuperi, prima di iniziare con la descrizione del numero in questione, volevo velocemente mettervi al corrente di alcuni recuperi, appunto di alcuni albi che ho avuto modo di acciuffare nei mercatini dell'usato a dei prezzi veramente irrilevanti. Pensate che in tutto non li ho pagati neanche 2,50€ e ne ho presi ben 7, per cui ecco ancora una volta io continuo a sottolineare l'efficacia dei mercatini dell'usato. Quindi velocemente vi mostrerei il numero 115, i signori della preistoria, le copertine sono sempre bellissime, questa è di De Angelis, il numero 124 intitolato Punto Zero, bellissima questa copertina con quest'auto piuttosto vintage, che insomma sicuramente di mio gradimento, fantastica. Poi ho recuperato anche un numero recente, evento piuttosto raro, visto che appunto si trovano molto difficilmente i numeri recenti di Nathan Never, questo è il numero 328, si intitola Repliche Umane, la copertina naturalmente di Sergio Giardo. Poi abbiamo il numero 129, i prigionieri dell'isola, il numero 128, quindi il numero precedente, il risveglio di Thor 14 e poi abbiamo ancora il 101, il 100 lo devo ancora recuperare, i primi 99 li ho presi tutti, il 100 mi manca, il 101 l'ho acciuffato e si intitola Paura dal profondo. Ma tanto io non ho fretta, insomma, prima o poi riuscirò ad acchiappare tutto quanto. A proposito di, insomma, acchiappamenti, collezioni in via di sviluppo, sto pensando una novità che poi magari vi mostrerò in pianta stabile per quanto riguarda Nathan Never, per il momento. Non vi dico di più perché ci vorrà probabilmente ancora qualche giorno per portarla a termine. L'ultimo numero che ho recuperato in questa manche è il 127 Corsa contro la Morte, con un'altra fantastica copertina di Roberto De Angelis, veramente tutte quante molto efficaci, le copertine di Nathan Never, così com'è efficace anche la copertina del numero 9 che si intitola Gli occhi di uno sconosciuto, che poi è anche l'albo di cui, insomma, tenterò così maldestramente di parlarvi oggi. Che cosa dire su questa copertina? Che è magnifica, no? È sottinteso, ecco, che cosa dire riguardo a questa copertina? Naturalmente l'autore è Claudio Castellini, il celebre copertinista, primo copertinista ufficiale della testata, anche disegnatore del numero 1, come ben sappiamo. Ed è una copertina veramente bellissima, sia come prospettiva, come inquadratura, come colorazione, come tratto grafico, insomma, è una copertina che ancora oggi davvero si fa guardare e si fa apprezzare. Castellini è stato fra i più grandi copertinisti, secondo me, che siano mai apparsi alla Sergio Bonelli di Tore. Questa storia risale al febbraio del 1992, chiaramente, insomma, per chi se lo fosse dimenticato, ma nessuno si è dimenticato che Nathan Ever è stato creato nel 91, qui siamo ancora all'interno del primo anno di vita del personaggio, per cui, appunto, l'albo risale al febbraio del 92. Lo sceneggiava Michele Medda, autore anche del soggetto, uno dei tre padri del personaggio, con i fantastici disegni di Stefano Casini, che era stato anche autore della doppia storia vista sui numeri 3 e 4, di cui, appunto, avevamo avuto occasione di parlarne tempo addietro. E i disegni di, insomma, di Stefano Casini, peraltro c'è anche una citazione alle canzoni di Suzanne Vega. Alla cantautrice Suzanne Vega, leggo pari pari, è una storia introspettiva, ci descrive, ci informa l'Alphacom, e quindi l'introduzione, appunto, dell'albo. È una storia introspettiva ispirata alle belle e malinconiche canzoni di Suzanne Vega, giovane cantautrice americana, per cui, probabilmente, sia Michele Medda che, appunto, il disegnatore Stefano Casini, si sono, in qualche modo, ispirati alla musica di questa cantautrice. E io devo dire che questa storia, più che essere una storia di fantascienza, è una storia noir, con una atmosfera fantascientifica, diciamo, con un sottofondo, ecco, fantascientifico. Si ricorre alla fantascienza per ricostruire la fisionomia del villain di questa storia. Non vi dico oltre, non vi faccio troppi spoiler, un po' per non rovinarvi l'avventura e la lettura, ma soprattutto anche per non complicarmi ulteriormente le cose, ve lo, insomma, ve lo anticipo, ecco, ve lo rivelo molto sinceramente. Però è più una storia noir, ecco, è più una storia noir anche proprio nelle atmosfere, nelle inquadrature, nella psicologia dei vari personaggi. Guardate, per esempio, questa tavola iniziale, disegnata da Stefano Casini, che mi rendo conto sia un disegnatore che divide, perché ha uno stile molto personale, lo ha ancora oggi. Mi pare, adesso sto andando a memoria, quindi potrei sbagliarmi, mi pare che avesse disegnato il numero immediatamente successivo a Intrigo Internazionale, che era quel numero che si rifaceva un po' al film Duello sul Pacifico con Lee Marvin e Toshiro Mifune. Adesso non mi ricordo più il titolo dell'albo in questione, però, insomma, tutto questo per dire che Stefano Casini ha sicuramente mantenuto il suo stile caratteristico personale è riconoscibilissimo. Qui ha fatto un lavoro incredibile, cioè ci sono delle tavole con un'atmosfera talmente efficace da far davvero entrare nel vivo della storia. Qui c'è la presentazione di uno dei protagonisti di questa vicenda, tale Manny, che inizierà una storia d'amore, diciamo, con una donna, con una 34enne di nome Amanda, una donna sola, piuttosto schiva, piuttosto timida, una donna che insomma non ha mai avuto grandi rapporti con l'altro sesso e anche Manny sembra un po' un timido, diciamo, un escluso. Fra loro nasce una storia d'amore anche piuttosto dolce, piuttosto delicata, peccato che nello stesso tempo Nathan stia indagando sulla morte di alcune donne che in qualche modo sembrerebbero essere state uccise da qualcuno che le ha circuite, no? Ecco, tutte donne piuttosto schive, piuttosto solitarie, piuttosto sole. Questo albo, secondo me, si regge molto sul tema della solitudine, sia Manny che Amanda, quindi questa coppia, diciamo, ma anche il personaggio di Nathan Neber, che qui era ancora agli inizi, quindi ci doveva ancora essere in qualche modo approfondito, no? Spiegato, raccontato. Ecco, direi che questo albo si verte tanto sul senso di solitudine e quindi ci sono queste due trame apparentemente distaccate, quindi da una parte questa storia d'amore che sta nascendo, dall'altra questa indagine anche piuttosto drammatica, perché appunto ci sono delle morti, c'è forse un serial killer in azione a parte di Nathan Neber che probabilmente alla fine confluiranno, ecco, e in questo mi ha ricordato un Nathan Neber piuttosto recente, memoria di un assassino, no? Che è uscito qualche mese fa in edicola, anche lì in qualche modo c'era un'indagine condotta da Nathan e da Sigmund da una parte e dall'altra c'era un serial killer che agiva e le due storie poi andavano appunto a confluire in un'unica vicenda. A grosso modo anche qui accade la stessa cosa, con naturalmente sfumature differenti. È una storia veramente molto bella. Poi chiaramente per chi come me, insomma, è appassionato di noir, ecco, non può che trovarsi a proprio agio, no? In questa storia. I disegni di Stefano Casini poi veramente completano il tutto e io vi mostro così qualche tavola senza ricercarvene qualcuna in particolare, perché io direi che qualsiasi tavola si prenda a modo esempio di questa storia. È interessante, insomma, è veramente potente ancora oggi a livello espressivo. Poi ci sono davvero delle, insomma, degli escamotaggi veramente molto carini, guardate, delle soluzioni, ecco. Guardate per esempio questa tavola come è efficace, particolare. Insomma, è veramente uno stile di disegno in grado di risultare affascinante ancora oggi. E poi ci sono delle personalissime interpretazioni del volto di Nathan Never che magari potranno non soddisfare qualcuno, ma a me sicuramente sicuramente piacciono e in qualche modo affascinano. Peraltro Stefano Casini è molto bravo, secondo me, anche a raffigurare Sigmund che è un personaggio forse un po' più difficoltoso da raffigurare rispetto a Nathan Never, un po' come Cico su Zagor. Insomma, Zagor e Nathan Never grossomodo sono personaggi che hanno delle anatomie classiche, per cui forse è più facile anche interpretarli rispetto appunto a personaggi come Sigmund, come Zagor, che sono decisamente più cartuneschi. Vedete qui l'interpretazione appunto di Casini per quel che riguarda Sigmund. Per cui veramente una storia molto bella, autoconclusiva, quindi se la ritrovate nei mercatini, cosa peraltro molto probabile, perché i primi cento numeri di Nathan Never si trovano molto semplicemente, molto facilmente. Se la trovate nei mercatini io vi consiglio di dargli una possibilità, perché è veramente una storia molto bella, sceneggiata molto bene e capace di restituire anche una certa tensione e poi appunto con delle tavole veramente molto belle e super dettagliate. Guardate per esempio questa vignetta con questo scorcio diciamo di questa cucina, guardate che meraviglia, guardate gli elementi fantascientifici sono pochi ma ben dosati e ci aiutano a dare il senso di futuro in una stanza che comunque è assai disordinata, insomma assai decadente. Ecco, per cui davvero un Stefano Casini in stato assolutamente di grazia. Un Claudio Castellini insuperabile per quanto riguarda la bellissima copertina, Michele Medda, autore di una storia veramente molto bella, molto coinvolgente e insomma io ve la consiglio, questa lettura ve la consiglio. In quarta di copertina di questo albo veniva pubblicizzato il numero 10 di cui presto parleremo perché lo posseggo, lo devo solo leggere. Grazie per l'ascolto, come al solito se volete intervenire con qualche commento fate pure, magari se vi ricordate la storia, se l'avete letta recentemente per qualche ragione, insomma parliamone come al solito insieme perché c'è tanto da dire su questa avventura. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a voi piacendo al prossimo video. Ciao a tutti!